Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra, perché ha perso la pace. Così Papa Francesco ha commentato la recente serie di attacchi, in particolare l'uccisione di un sacerdote in una chiesa del nord della Francia, ma ha aggiunto che non bisogna dimenticare i tanti cristiani che muoiono in Nigeria o in altri paesi. Il Papa ha paragonato questa forma di guerra ai due grandi conflitti mondiali del secolo scorso, ma ha precisato che non si tratta di una guerra di religione, perché tutte le religioni vogliono la pace. Il Pontefice era in volo verso Cracovia per partecipare al grande raduno cattolico della giornata mondiale della gioventù, che quest'anno si svolge in Polonia dal 26 al 31 luglio e si calcola richiami 4 milioni di giovani.